yo wheelers buah a tutti e bentornati sul canale come sempre qui è il vostro alas che vi parla piacere di rivedervi siamo qui per il penultimo round di questa stagione di formula 3 seconda stagione in formula 3 per alas adramson e la sua one in one racing team gp di zandford in olanda se non avete visto l'ultimo episodio il round numero 5 il gp di spa franco champ non esitate cliccate in questo momento nel lago in alto a destra e recuperatelo prima di dare un'occhiata a questo episodio gli ultimi due episodi sono stati veramente ottimi per noi per recuperare da un inizio di stagione al contrario disastroso e siamo benissimo in lotta per il campionato piloti con santino ferruci che viene da due vittorie consecutivi e quindi è a meno sei dalla vetta in classifica costruttori invece la lotta è più difficile potete vederlo siamo in seconda posizione ma siamo a 17 punti dalla prema e a due gare dalla fine ovviamente non è per nulla facile ci servirebbe un altro 1 2 o perlomeno un 1 3 con un brutto risultato per la prema per cercare di riaprire i giochi per l'ultima gara vedremo cosa saremo in grado di fare ovviamente vi chiedo come sempre di lasciare un like di commentare e iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi contenuti iscrivetevi a tutti i miei canali social per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite sul canale di questa serie di tutte le altre serie che potete visionare sul canale detto questo io direi di non perdere altro tempo e di tuffarci immediatamente all'interno di questo episodio un episodio che si pronuncia veramente molto combattuto perché è prevista pioggia per la gara asciutto per prove libere asciutto per le qualifiche bagnato per la gara e nelle strategie sappiamo che siamo un passo avanti rispetto a tutti gli altri quindi speriamo di confermare questa tendenza continuiamo andiamo a scegliere il nostro sponsor lavazza montatura dei componenti già effettuata andiamo giusto a dare un'occhiata molto veloce per vedere se abbiamo appunto montato il cambio i cambi giusti ai nostri due piloti perfettamente e ugualmente con le sospensioni quindi andiamo a rischiarcela con un 62 per cento e 56 per cento sulla fidabilità delle sospensioni ma dobbiamo farlo per cercare di combattere fino alla fine anche per il campionato costruttori scendiamo in pista per le prove libere ed eccoci pronti per le prove libere in quel di santford olanda andiamo a scegliere santino ferrucci e dino beganovic come nella gara precedente e andiamo a settare le nostre vetture essendoci pioggia nella gara stavolta scegliamo le super morbide perché teoricamente non avremo degli stint lunghi da effettuare in gara con le gomme slick speriamo sia così potremo utilizzare quindi le conoscenze per le super morbide anche in qualifica e proviamo con questa strategia continuiamo scendiamo in pista per le prove libere ovviamente mandiamo subito in pista i nostri due piloti iniziamo con dino beganovic che ha già assetto da gara che è quello su cui ci concentriamo vediamo con santino ugualmente fortunatamente assetto da gara quindi non perdiamo tempo noi come sempre ci rivediamo al termine delle prove libere per valutare conoscenze e setup delle vetture mancano pochi secondi al termine della sessione abbiamo effettuato delle piccole modifiche sulla vettura e devo dire che non era male il setup eravamo all'incirca al 90 per cento se non sbaglio con entrambi è ottimo risultato perché raggiungiamo il livello 2 sia sulle gomme super morbide che sull'assetto da gara ci potrà aiutare in entrambe le situazioni quindi sia in qualifica con l'assetto super morbide sia in in gara con ulteriormente l'assetto da gara arriveremo giusti giusti proprio con il livello 2 anche se sembra che non stiano migliorando vediamo andiamo ad accelerare comunque dovremmo aver teoricamente migliorato invece no non raggiungiamo di un nulla il livello 2 peccato peccato mi sarei aspettato di raggiungerlo comunque prove libere che ci vedono in prima posizione con dino beganovic in seconda con santino ferrucci ottimo risultato delle nostre vetture poi le due trident con kubitz e gunter solo quinto leclerc poi tiktum vidale si usa vesti edgar cohen williams chauvet rasmussen degherus stan e katken e cordell a chiudere la graduatoria continuiamo e scendiamo in pista per le qualifiche perché dobbiamo assolutamente ritoccare il setup in entrambi i nostri piloti andiamo a scegliere come sempre super morbide condizioni ottimali massime per santino ferrucci super morbide piede leggero come medie che non serve a logan sargent dobbiamo migliorare entrambi perché siamo arrivati al 92 per cento ma c'è qualcosa da migliorare nel carico aerodinamico e un po in tutto diciamo la verità proviamo così con santino ferrucci per lui ovviamente gomma rossa nuova e proviamo anche con sargent a migliorare il suo setup proviamo così con logan anche con lui gomme rosse e a questo punto scendiamo in pista per le nostre qualifiche scendiamo subito in pista perché secondo me possiamo riuscire anche a fare due giri proviamo a vedere se ci riusciremo subito in pista con con logan e subito in pista con santino per cercare di perdere il meno tempo possibile stanno andando a chiudere il loro giro il loro primo giro teoricamente i nostri due piloti sargent va a tagliare il traguardo battuto da ferrucci di 5 decimi e mezzo anche qualcosa di più siamo 12 leclerc e due decimi dietro ferrucci sembriamo avere un buon passo in queste qualifiche use a 39 millesimi vicinissimo ma per ora ferrucci si prende in mano la pole position vediamo se riusciamo a rientrare box a uscire immediatamente e provare a effettuare un secondo giro subito in pista con logan che ha migliorato al 96 per cento il suo setup vi dirò una cosa per non perdere tempo altrimenti rischia di non arrivare a tagliare il traguardo logan scendiamo così e poi nel caso in in gara andremo a modificare il suo setup e facciamo scendere in pista anche ferrucci anche con lui il 97 per cento quasi quasi anche con lui direi di non ritoccare nulla li mandiamo entrambi in pista per cercare un secondo giro vediamo se ce la fanno a effettuarlo perché il giro è all'incirca un minuto e 40 secondi dovrebbero teoricamente riuscire a tagliare il traguardo buono buono con logan sargent mentre ottimo e perfetto con ferrucci che potrebbe anche riuscire a migliorare ci arrivano ci arrivano sta andando iniziare il suo giro ora sargent e subito dietro ferrucci andiamo a vedere che tempo riusciranno a fare soprattutto ci serve un miglioramento di sargent perché ormai direi che la pole position di ferrucci è quasi assicurata visto che solo cohen sta effettuando il giro di lancio e abbiamo edgar che è riuscito a tagliare il traguardo per iniziare il suo giro vediamo se edgar riuscirà a mettere in crisi il suo avversario ma ferrucci va già fucsia nel primo settore con sargent a soli 34 millesimi sargent sta andando a tagliare il traguardo secondo settore purtroppo bianco per lui vediamo se riesce a migliorare non migliora rimane in nona e ferrucci migliora il suo giro si mette in stra prima 139 0 30 con un decimo e mezzo di vantaggio su use in seconda buona qualifica per noi santino ferrucci in prima ma ci serve sargent che è migliore perché edgar ha migliorato quindi sargent è sceso addirittura in decima posizione griglia di partenza ferrucci use in prima e seconda piazza in seconda fila cubizza leclerc in terza vesti edgar in quarta tiktum gunter in quinta cohen sargent in sesta vidales de gerus williams e itken poi erasmus e stane che sciove cordei a chiudere la griglia di partenza andiamo in pista per la gara si parte subito con la pioggia subito gomme intermedie vediamo se riusciremo a sfruttare questa condizione della pista attenzione perché potrebbe esserci una strategia alternativa si potrebbe tranquillamente partire con le intermedie però attenzione perché potremmo montare direttamente le gomme da bagnato andiamo con la doppia strategia direi andiamo super morbido di assetto da gara con entrambi i nostri piloti perché secondo me la pioggia diminuirà e arriveremo anche in una condizione di asciutto non è detto però potrebbe essere così setup delle nostre vetture non ritocchiamo nulla direi proprio forse con la vettura di sargent possiamo leggermente aumentare il bilanciamento della velocità e andiamo così con lui ci proviamo scelta delle gomme gomma da bagnato andrà in fondo molto probabilmente ma sarà molto più veloce in zona bagnato se gli altri dovessero aver bisogno di fermarsi per montare la gomma da bagnato e lui riesce comunque a mantenere un buon passo potrebbe essere la grande strategia della one in one racing team quindi differenziamo i nostri due piloti strategia dei piloti ovviamente andiamo all'attacco con entrambi modalità motore alta e scendiamo in pista eccoci in griglia in prima ferrucci in decima sargent con le gomme full wet a provare la strategia alternativa parte il gran premio buono lo scatto di ferrucci ma ancora migliore quello di cubizza e le clerk prova ad inserirsi ma ferrucci per ora mantiene la sua posizione attenzione lungo di cubizza che perde la vettura provato il sorpasso le clerk si porta in seconda attenzione le clerk in prima le clerk già in prima posizione che partenza di arthur le clerk dalla quarta piazza e prova già a mettere un po di vantaggio tra sé e ferrucci che perde anche rischia di perdere la seconda posizione che partenza di le clerk ha già messo un secondo e mezzo tra sé gli avversari e ferrucci scende in terza ciò che non ci serviva vediamo sargent attenzione a sargent perché ha fatto il primo settore fucsia ora sta cominciando a perdere qualcosa ma naturalmente lo sappiamo che perderà qualcosa ma speriamo che la pioggia aumenti in fretta perché potrebbe essere la grande strategia della domenica questa ferrucci in terza e probabilmente anche con ferrucci ci fermeremo per il pit stop perché la pioggia sta aumentando pit stop per le clerk qualcosa per le clerk è andato a montare le full wet è andato a montare le full wet andiamo a spingere ora andiamo a spingere tutto con ferrucci le clerk ampiamente dietro sargent si fermano tutti sta aumentando la pioggia ma ancora non è il momento giusto ancora sono più veloci le le intermedie secondo me possiamo fermarci alla fine del giro possiamo fermarci alla fine del giro con ferrucci peccato non averle montate subito sarebbe stata una grande strategia la nostra andiamo a fine giro a a parare la mossa di di artur le clerk con sargent che potrebbe aver fatto la mossa della domenica sta perdendo ma sta perdendo veramente poco ferrucci si fermerà vediamo se si fermerà anche use per ora use non si vuole fermare ma ferrucci è molto molto vicino ora vediamo in questo momento sembriamo pari quasi pari con le prestazioni tra tra gomme intermedie e gomme da da bagnato estremo si fermano entrambi speriamo in un buon pit stop da parte dei nostri piloti si ferma ferrucci non vediamo ferrucci riparte ed è davanti a use davanti a use sargent in prima posizione sta arrivando le clerk forse ferrucci è davanti ferrucci è davanti ed è dietro le clerche dietro use 12 ce l'abbiamo fatta grande grande strategia la nostra ora dobbiamo andare in media e invece con sargent possiamo tranquillamente gestire perché a 10 secondi di vantaggio che strategia siamo stati molto bravi con le clerche che riesce a sorpassare use quindi ferrucci ora deve stare attento dietro ma che strategia avessimo montato le full wet anche col nostro ferrucci ora avremo miglia di vantaggio nei confronti di tutti gli altri ma va bene così andiamo a scaldare le gomme vediamo le clerche sta spingendo sia sulle gomme che sul carburante noi andiamo a spingere sulla sulla gomma continuiamo a gestire il carburante perché teoricamente dovrebbe essere più difficile sorpassare con con questa condizione della pista schianto di johnny edgar bandiera gialla non è successo praticamente nulla dopo i pit stop sargent sta perdendo qualcosina ora sta cominciando a riguadagnare anche se sta un po surriscaldando le gomme mentre le sta raffreddando ferrucci quindi andiamo a spingere nuovamente con ferrucci che ha preso un po di vantaggio nei confronti di le clerche sargenta 8 secondi di vantaggio sul compagno di squadra che a sua volta più di 2 secondi di vantaggio sulle clerche ora stiamo cercando di fare la differenza con questa gomma e di risparmiare più carburante possibile per averlo nelle prossime fasi di gara siamo proprio al centro anzi quasi alla fine della pioggia veramente pesante ora pian piano la pioggia si abbasserà e sembra che si vada in intermedie fino alla fine della gara quindi a brevissimo cominceremo a spingere tanto soprattutto con ferrucci che è una gomma molto molto nuova ancora e cercare di guadagnare il più possibile nei confronti di le clerche che sta perdendo perché le clerche in questo momento non è completamente in gestione però è in neutrale quindi comunque sta perdendo con ferrucci che invece sta spingendo un po di più sulla sulla gomma è una gomma anche più nuova santino ferrucci ricordiamo l'ho entrato un giro dopo ma che strategia che abbiamo fatto allora la situazione in questo momento sarebbe potremmo pensare anche di dare l'ordine di scuderia per far recuperare ferrucci e farlo passare per il campionato piloti al contempo però non voglio perché sargent ha effettuato la giusta strategia è là davanti per merito e non voglio dare questo tipo di ordine di scuderia e creare dei dissapori tra i compagni di squadra quindi probabilmente in questo momento pensiamo più alla squadra e questo 1-2 sarebbe fondamentale per noi perché avremo le clerche in terza che fa punti per la prema noi a pieni punti praticamente con vidales fuori dalla zona punti quindi per ora continuiamo così cominciamo a spingere cominciamo a spingere sulle gomme per cercare di guadagnare il più possibile ferrucci è quasi rientrato in target per il carburante stiamo andando verso la zona gomme intermedie e cerchiamo quindi di sfruttare le full wet il più a fondo possibile per cercare di guadagnare il più possibile per il pit stop naturalmente dovremmo con ferrucci marcare le clerche mentre con sargent abbiamo un po più di libertà di movimento per cercare di effettuare il pit stop nel momento giusto credo che a breve qualcuno comincerà a fermarsi per cercare di guadagnare qualcosa dobbiamo considerare che il giro è piuttosto lungo quindi probabilmente la nostra strategia sarà quella di fermarci al prossimo giro al massimo tra due giri la pioggia diminuisce tanto la pioggia sta diminuendo tanto potrebbe essere il momento giusto proviamo ad avanzare per vedere qual è la condizione proprio quando sta terminando il giro ancora fradicio però probabilmente il momento esatto perché se la pioggia diminuisce tanto continuiamo un altro giro continuiamo un altro giro e poi li faremo fermare nello stesso giro ai nostri due piloti anzi con sargent possiamo andare a spingere anche modalità motore non si ferma nessuno noi ci fermiamo con entrambi i piloti alla fine di questo giro gomme intermedie condizione dei componenti buona pit stop veloce e con invece santino ugualmente andiamo a selezionare le gomme intermedie nuove condizioni dei componenti buone vediamo le sospensioni al 48 per cento però ancora buone e ci fermiamo gomme surriscaldate ma ne siamo pienamente consapevoli ancora la pista risulta fradicia ma sta arrivando il momento che stiamo aspettando per montare la gomme intermedia qualcuno si è già fermato vedete rasmussen degherus e kubica tanti si fermano proprio alla fine del giro noi spingiamo al massimo ora con sargent che ha 6 secondi e 4 di vantaggio nei confronti di ferrucci infatti con ferrucci stiamo gestendo il carburante mentre con sargent stiamo spingendo proprio per cercare di guadagnare qualcosina e avere la sicurezza di poter effettuare il pit stop senza che venga rallentato il pilota in seconda posizione pronta a rientrare sargent è il momento perfetto per fermarci si ferma sargent nessun problema al pit arriva ferrucci perfetti i nostri meccanici ai box sargent in prima ferrucci in seconda e leclerc ugualmente rientrato dietro di noi e siamo ancora 1 2 ora naturalmente dobbiamo stare molto 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 attenti al passo di leclerc noi andiamo al massimo per cercare di gestire le gomme al meglio perché dobbiamo fare 17 giri su questa gomma e sembra che alla fine della della gara la pioggia possa anche riaumentare leggermente però sembrerebbe che si possa arrivare con le gomme intermedie fino in fondo è iniziato il ventesimo giro quindi 10 giri alla fine due terzi di gara stiamo gestendo benissimo la gomma anche rispetto a tutti gli altri però siamo andati a dare un'occhiata al meteo e guardate proprio nell'ultimissima parte di gara la pioggia sarà di nuovo molto molto importante e quindi si potrebbe pensare di rientrare per le gomme full wet il fatto è che probabilmente quella condizione della pista durerà per soli due giri noi naturalmente dovremmo semplicemente marcare artur leclerc e i nostri avversari per quanto riguarda il distacco abbiamo tantissimo carburante da parte quindi a breve potremo cominciare a spingere ma ferrucci pian piano si sta avvicinando al suo compagno di squadra a 4 secondi in questo momento a 10 giri dalla fine e leclerc è dietro ferrucci di 4 secondi e mezzo all'incirca quindi stanno pian piano accorciando i due dietro nei confronti del capo classifica ma penso che comunque sergeant possa tranquillamente gestire lo sta gestendo bene questo vantaggio ora andiamo al massimo come spinta sulla gomma loro stanno consumando la gomma molto molto di più rispetto a noi ora noi andiamo a scaldarla nuovamente per cercare di riguadagnare qualcosina nei confronti di artur leclerc e vedere cosa come comportarci proprio negli ultimi giri di gara c'è qualcosa che non vale sospensioni sergeant 34 per cento e santino ferrucci 35 siamo in zona rossa a 5 giri dalla fine è rischiosissimo ma naturalmente non possiamo rientrare in questo momento effettuare una riparazione però ricordiamoli in zona rossa ci può essere una rottura in qualsiasi momento noi stiamo gestendo la nostra gomma in questo momento gli altri sono in condizioni molto molto peggiori rispetto alla nostra gomma andiamo a vedere per esempio leclerc ha una gomma al 32 per cento mentre noi siamo ancora sulla soglia del 40 per cento con i nostri due piloti e possiamo andare tranquillamente in modalità motore media nuovamente per ricominciare a gestire un po di carburante visto che siamo perfettamente in target speriamo di riuscire a gestire questa condizione delle sospensioni l'abbiamo voluta rischiare e ora siamo in una condizione critica io penso che gli altri si fermeranno per montare una full wet per arrivare fino in fondo ma credo che sia arrivi troppo tardi la pioggia pesante vediamo questi ultimi giri ci chiedono già le gomme da bagnato e si fermano si fermano dietro noi continuiamo a gestire la gomma così al 34 per cento anche se siamo con temperatura fredda tictum è a 50 secondi non credo che a tre giri dalla fine riesca a recuperare si ferma però leclerc si ferma leclerc e a questo punto ci fermiamo anche noi vediamo use vediamo se si fermano tutti no use non si ferma noi non possiamo fermarci troppo rischioso troppo rischioso continuiamo continuiamo e speriamo dobbiamo continuare e sperare andiamo al massimo e cominciamo a spingere di nuovo sulla gomma per farla un po scaldare e dobbiamo rischiare per questi ultimi due giri leclerc si è fermato e ha montato le full wet sta iniziando in questo momento l'ultimo giro per logan sergeant leclerc ha guadagnato solo due secondi e mezzo in questo giro quindi dovremo riuscire ad arrivare in fondo con questa gomma con ferrucci che ha tre secondi e otto da sergeant quindi volendo potremo anche effettuare lo scambio di posizione con use che ha 13 secondi secondo me leclerc ha fatto male perché sta guadagnando su use ma use dovrebbe riuscire a gestire anche se ha una gomma molto usurata il pilota della hwa sta anche gestendo il carburante quindi gomma al 15 per cento per use che sicuramente è anche molto fredda ma sette secondi di vantaggio nei confronti di leclerc leclerc potrebbe anche non prendersi il podio con vidales che in dodicesima e quindi in questo momento siamo in una condizione ottimale anche per il campionato costruttori sergeant è alle ultime curve stiamo portando a casa un risultato che ha del dell'incredibile del clamoroso ma soprattutto un risultato importantissimo per noi prima vittoria stagionale per logan sergeant davanti al compagno di squadra santino ferrucci grandissimo risultato ancora un 1 2 1 2 1 3 1 2 nelle ultime tre gare per la one in one racing team che risponde così alle critiche using terza e leclerc con il pit stop a fine gara arriva solo quarto quindi neanche un pilota della prema sul podio risultato incredibile per la one in one racing team di alas adramson ora come sempre dobbiamo sperare rischio di infrazione medio e purtroppo due posizioni perse per i freni 100 mila euro vediamo chi perde posizioni purtroppo è proprio santino ferrucci purtroppo è proprio santino ferrucci vince logan sergeant davanti a jose leclerc santino ferrucci da secondo scende in quarta posizione peccato peccato anche se comunque guadagniamo buoni punti nei confronti della prema poi coentictum a chiudere la graduatoria della zona punti gunter vesti erasmus en vidale scubitz astanek eitken degerus calan williams cordel pierluis chauvet è incidente per johnny edgar questo il podio peccato per aver perso posizioni con santino leclerc 30 punti ferrucci in seconda a quota 23 a meno 7 purtroppo leclerc alla fine ha guadagnato punti nei confronti di santino ferrucci peccato perché se avessimo fatto passare ferrucci nei confronti di logan ferrucci sarebbe sceso in terza posizione sempre davanti alle clerc peccato ma naturalmente non potevamo saperlo vidales scende in terza posizione sergeant in quarta con cubizza in quinta classifica costruttori prema 52 a una gara dalla fine siamo a 8 punti dalla prema one in one racing team in seconda trident in terza abbiamo la possibilità di vincere il campionato proprio all'ultima gara se dovessimo guadagnare proprio i punti che abbiamo guadagnato in questa speriamo bene ci proveremo proprio alla fine proprio all'ultima gara proprio sul filo di lana al circuit of the americas proseguiamo e torniamo alla nostra dashboard reso conto scuderia santino ferrucci purtroppo perde morale a causa del risultato e lo perde anche logan sergeant nonostante il primo posto contento naturalmente jim farley soddisfazione al 91 per cento di nuovo risultato sicuro molto sicuro probabilmente nella nostra situazione del lavoro perdiamo 2 milioni e 369 mila e 900 euro e proseguiamo nella nostra dashboard situazione lavoro sicurezza lavoro molto sicuro meccanici epistop per noi andiamo a vedere le possibili assunzioni varenna 100 di energia 14 in gomma e 14 in cric anteriore e direi di assumerlo 9 mila euro per gara direi di assumere anche al brio e 13 mila euro per gara ma 99 di energia con 12 in gomma e 13 riparazione 11 in cric anteriore 12 in posteriore una ottima valida alternativa poi abbiamo anche un'altra possibile assunzione perché direi di scartare panichelli 83 di energia e carsetti 78 di energia mentre mannone ha un 15 in cric anteriore 13 in cric posteriore 13 in riparazione 95 di energia 14 mila euro per gara lo andiamo ad assumere siamo a meno di 17 milioni andiamo a modificare la squadra meccanici per il prossimo gran premio questa sarà la nostra squadra meccanici per il prossimo gran premio l'ultimo gran premio della stagione del gp del circuit of the americas fine settimana il beganovic il più veloce nelle prove libere ferrucci in pole aggiornamento condizione vetturo un'intervista con mark use di f1 magazine logan sergeant ha dovuto chiedere scusa al rappresentante del circuito dopo avergli fatto la doccia con lo champagne sul podio che cosa pensi del suo comportamento ha vinto la prima gara della stagione un grandissimo risultato con una strategia fenomenale da parte della squadra e naturalmente devi aspettarti sei sul podio non puoi lamentarti per una doccia con lo champagne revisione dei meccanici p-stop componente vietato sappiamo già qual è il messaggio di john todd sergeant non guiderei con jack use nemmeno se fosse una questione di vita o di morte addirittura rivalità con con jack use sergeant vince il gp di santford proseguiamo nel nostro calendario andiamo proprio al giorno dopo con la riparazione della vettura completata quindi andiamo a dare un'occhiata alla nostra monoposto come sappiamo non andiamo a progettare nuovi componenti per questa stagione andiamo a migliorare gli elementi che già abbiamo da parte potremmo sviluppare un nuovo freno in teoria è cruciale quindi potremmo anche pensarci quindi quasi quasi direi di andare a sviluppare un nuovo componente vedere come come esce fuori il il freno ma non credo che esca di buon livello questo freno arriva 23 giorni prima della gara al momento è più basso di prestazioni rispetto a quello che abbiamo da parte che abbiamo il secondo migliore che abbiamo però sicuramente potenzialmente molto migliore con un'affidabilità piuttosto bassa purtroppo però ci proviamo direi di spendere perché la spesa di soli 19 mila euro ci proviamo e vediamo se riusciremo a migliorarlo sia dal punto di vista delle dell'affidabilità che dal punto di vista delle prestazioni andiamo a vedere in questo momento quali elementi migliorare dal punto di vista delle prestazioni visto che utilizzeremo il nuovo a no guardate il il freno al momento a 457 quindi uscirà già migliore il prossimo andiamo a vedere gli elementi cruciali abbiamo solo il freno quindi andremo a migliorare quello nuovo che ci arriverà a brevissimo per quanto riguarda invece l'affidabilità dei componenti stiamo sviluppando l'affidabilità dei componenti che più ci servono ma abbiamo già un buon livello dovremmo migliorarli ulteriormente le sospensioni siamo arrivati a fine gara anche se un po con difficoltà ecco e dobbiamo migliorare le prestazioni di un elemento e direi di andare a migliorare il le prestazioni appunto di questo di queste sospensioni mentre il cambio lo stiamo andando a stiamo andando a finire il miglioramento è a brevissimo dovrebbe finire appunto il miglioramento prestazioni di questi componenti ci siamo martedì 8 novembre 2022 progettazione dei freni terminata andiamo subito a migliorarli dal punto di vista delle prestazioni dobbiamo aspettate costruzione freni terminate eccesso di velocità per johnny edgar messaggi che non ci interessano andiamo a vedere la nostra vettura andiamo a montare il nuovo componente che è questo 40 per cento però di di affidabilità sicuramente da migliorare mentre questo lo montiamo a logan che però ha l'altro elemento quindi andiamo a montare questo a santino e questo a logan sergeant e lo andiamo immediatamente a migliorare dal punto di vista delle prestazioni ovviamente andiamo a migliorare appunto la prestazione del di quei freni andiamo a migliorarne la prestazione no direi di andare a concentrarci prima sulla fidabilità e poi andremo tutto sulla prestazione quindi con questo abbiamo terminato la progettazione dei nuovi componenti per la stagione possiamo proseguire nel nostro calendario abbiamo un dilemma bisogno di riposo logan sergeant ciao capo è da un po che non sto benissimo e se e penso di avere bisogno di una pausa per ricaricare le batterie di solito vado in un centro benessere nei dintorni ma vorrei scegliere il pacchetto migliore per avere la certezza di riprendermi mi farebbe davvero piacere avere il tuo sostegno è una spesa importante però naturalmente se non dovesse accettare aggiunge caratteristica stremato e il morale scende di 10 quindi spendiamo questi 100 mila euro che naturalmente sono 95 mila con lo sconto e acquisisce la caratteristica felice quindi andiamo a vedere proprio la nuova caratteristica del nostro pilota andiamo nella schermata dei nostri piloti andiamo a vedere le caratteristiche di logan felice morale più 30 quindi è sicuramente al massimo ricordiamoci che siamo prossimi all'ultima gara della stagione quindi a breve dovremo pensare anche se rinnovare i nostri piloti quello sarà un punto molto importante della fine della stagione siamo in terza posizione in classifica piloti come come valore dei nostri piloti primi come quartier generale primi come come monoposto secondo posto come staff però siamo in fondo come sponsor quindi dobbiamo assolutamente migliorare i nostri sponsor proseguiamo nel nostro calendario ed eccoci arrivati al fine settimana di gara e ci sono proprio i contratti in scadenza per quanto riguarda la fine della stagione michele fabris abbiamo diversi contratti in scadenza alla fine dell'anno santino ferrucci e logan sargent quindi dino beganovic non è in scadenza avevamo fatto un contratto lungo per lui per lui contratto rimanente 13 mesi potremmo pensare nel caso di promuoverlo come secondo pilota il nostro giovane dino beganovic 18 anni nel caso uno dei due non dovesse accettare il rinnovo vediamo naturalmente se andare a rinnovarli entrambi per la nuova stagione sia santino che logan sargent con logan che è migliorato tantissimo guardate quasi tre stelle per lui mentre ferrucci non è migliorato granché 25 anni per santino ferrucci 21 per logan sargent 18 soltanto per dino beganovic potremmo anche pensare di far diventare logan il nostro primo pilota e dino beganovic il secondo e naturalmente lo valuteremo nel prossimo episodio siamo nella quindi nella nostra dashboard vi faccio dare un'occhiata naturalmente agli elementi della monoposto mi ero dimenticato in precedenza di selezionare il miglioramento affidabilità per il pezzo quindi ho dovuto bloccare e impostarlo e a questo punto mi sono perso un po di miglioramento prestazioni per quegli elementi ora siamo al 68 per cento andiamo prima della gara a spostare tutto su prestazioni se riusciamo magari ad acquisire un punto comunque il freno costruito in precedenza ha raggiunto i 481 punti ci siamo praticamente con quasi al livello massimo di questo pezzo buono e andiamo a vedere il montaggio dei componenti prima della prossima gara e quindi confermiamo che montiamo il nuovo pezzo a logan con il pezzo più qualitativo a santino ferrucci andiamo a montare il cambio migliore a santino e il secondo a logan sargent che ha un livello di rischio quindi un livello di rischio per logan un livello di rischio per per santino e per quanto riguarda invece le sospensioni la migliore a santino ferrucci la seconda migliore a logan sargent torniamo nella nostra dashboard nella schermata principale e con questo quindi abbiamo terminato per questo episodio ragazzi se vi è piaciuto questo grande episodio per noi con la prima vittoria stagionale per logan sargent è una seconda posizione rubata santino ferrucci per via del livello di rischio dei freni del pezzo che è stato vietato lasciate un like commentate iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi contenuti iscrivetevi a tutti i miei canali social per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite del canale detto questo l'appuntamento è per l'ultima gara di questa stagione di questa seconda stagione in formula 3 inaspettatamente ci stiamo giocando fino all'ultimo anche il campionato costruttori il campionato piloti probabilmente chiuso perché ferrucci ha 7 punti di svantaggio da arthur leclerc che sembra sulla via di confermare il titolo piloti ma nei costruttori siamo a meno 8 dalla prima e stiamo facendo delle ottime prestazioni con entrambi i nostri piloti mentre il secondo pilota della prima vidale si è completamente crollato speriamo di riuscire a confermare un ottimo risultato nell'ultima gara e detto questo ragazzi tutto all'ultimo tutto alla fine non perdetevi il prossimo episodio il round numero 7 al circuit of the america stati uniti e ci rivediamo al prossimo episodio ancora grazie ciao willers